Domanda, qual è stato il filosofo che ha fatto più danni nella storia? Guardiamo un po' se lo troviamo. Io so già che ve ne vengono a mente due, Nietzsche e Marx, ma c'è uno prima che ha fatto più danni. E parliamo di una cosa, che la filosofia in realtà è qualcosa che è un grande motore di idee che cambia le cose più di quello che può fare la politica. Perché senza una partenza filosofica ideale, tutti i cambiamenti del mondo non sarebbero avvenuti. Non sappiamo il platonismo cosa ha creato nel mondo, non sappiamo cosa ha creato la filosofia Essena da cui è partito Gesù, non sappiamo cosa ha creato di cambiamento nel mondo la filosofia ottocentesca, tedesca, cioè il Novecento, il secolo più terribile della storia. Ecco, sebbene il suo maestro avesse già intuito delle cose che avrebbe portato a quello, si era mantenuto su un aspetto idealista, su un aspetto un minimo spirituale. Ma poi è arrivato Feuerbach, quindi parlo di Egel in maestro, Feuerbach l'allievo e Feuerbach ha creato il disastro, perché ha fatto due semplici affermazioni. ha detto che l'uomo è ciò che mangia, che sembra una cosa anche scontata per voi oggi, ma in effetti quello che ha detto lui all'epoca era una grande cesura con tutto ciò che c'era prima nella filosofia. L'uomo è ciò che mangia. E poi ha detto un'altra cosa ancora più terribile, l'uomo ha creato Dio e non il contrario. Quindi va a ribaltare il paradigma. L'uomo ha creato Dio secondo i suoi desideri, in ogni cultura ha dato le sue caratteristiche umane spinte verso il divino e il suo desiderio di vita eterna. E questo è la creazione di Dio da parte dell'umanità. E queste due idee che sono entrate nella carne delle persone di quell'epoca hanno creato l'orrore del fine ottocento, inizio novecento, un mondo dove le persone erano non solo nichiliste, erano proprio rose da questo, perché si erano convinti che la realtà fosse solo materiale e che essi fossero degli animali che erano ciò che mangiavano. E io dico gli animali già sono di più di quello che mangiano. Va bene? Ma questa cosa poi è stata ripresa, ci siamo ripresi dopo, dopo secoli ci siamo ripresi. Però c'è stato un secolo abbondante in cui tutto ciò è stato terribilmente scontato, finché poi non è arrivata la meccanica quantistica probabilmente a cambiare un po' queste cose, perché siamo accorti che noi abbiamo un'influenza sulla realtà, quindi la realtà non è così reale, ma ci arriveremo. Voi capite che queste due affermazioni, l'uomo è ciò che mangia, portano a materialismo più sfrenato, non c'è più morale, a questo punto tutto è possibile. E' questo che ha creato l'orrore del novecento, è evidente. E poi l'altra affermazione, noi abbiamo creato Dio a nostra immagine e somiglianza, non Dio ha creato noi a nostra immagine e somiglianza. Questo significa che noi uomini siamo soli, persi nell'universo, e siccome soffriamo del fatto di dover morire, abbiamo creato una divinità per vivere meglio. Questa ipotesi è ancora maggioritaria, anche fra le persone che dicono di credere, poi sotto sotto vai a fargli delle domande, e credono che sia così, credono che Dio sia la nostra proiezione, che ci serve a vivere meglio, quindi loro credono soltanto per vivere meglio, un po' come nella vecchia scommessa di Pascal. E questa concezione materialista di Feuerbach ha creato il nichilismo e soprattutto l'edonismo. Allora, sulle classi alte, certamente ha contato più l'edonismo, perché sono detti, siamo degli animali, siamo ciò che mangiamo, ci siamo inventati Dio, quindi non c'è nessuna salvezza eterna, finisce tutto, abbiamo una vita breve, ma siamo molto ricchi, ecco che i ricchi hanno iniziato a fare un po' o meno della loro moralità, che prima era presente, probabilmente in passato, almeno entro certi limiti, c'era una moralità, comunque credevano di doversi salvare l'anima, credevano di poter essere un pochettino umani, nei confronti di altri esseri viventi del pianeta, e invece lì hanno perso tutto, hanno perso ogni freno morale, e si è formato questa gabbia, a cui viviamo ancora, che si chiama capitalismo, che si chiama società basata su concentrazione di grandi ricchezze, di persone che hanno potere, e decidono per gli altri tutto quello che conta, perché sono solo gregge, non hanno nulla oltre, ma vogliono in questo mondo conquistare tutto il mondo, non hanno letto la frase del Vangelo che dice che giova all'uomo a conquistare il mondo intero se perde la sua anima, ma non credendo all'anima, hanno risolto il problema alla radice, quindi possono conquistare il mondo, e poi darlo magari ai loro discendenti. Questo è stato il trend che ha creato il Novecento, le grandi industrie, il capitalismo più sfrenato, e che oggi ci porterà un giorno a essere considerati inutili, a vivere poi in mente in spazio 2x3, perché è uno per uno, perché così non ci riproduciamo, ed avere un mondo di robot, di ricchi sempre più spinti verso l'idea di immortalità fisica, cioè al limite si fanno ibernare, però vogliono vivere in eterno su questo pianeta, perché sono ciò che mangiano, e al loro hedonismo più sfrenato, quindi cercare ogni tipo di piacere, godere, 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 finché non schiattano, questa è un po' l'idea. E ovviamente loro poi non vogliono nemmeno più schiattare, mentre gli altri ovviamente devono depopolarsi e farsi un po' da parte, perché ci sono i robot che servono per servirli, non hanno più bisogno delle persone. Capite ciò che tutti i danni ha fatto Feuerbach? Per fortuna ora ci sono delle piccole evidenze che poi stanno crescendo, ma ovviamente le stanno tenendo molto lontano dalla vostra visione, non ve lo vengono a dire, perché altrimenti voi perdete l'idea di essere pecore, schiave, nichiliste, destinate a soccombere, che accettate tutto quello che vi dicono, perché volete almeno stare un pochino meglio in questa vita, no? E quindi se vi dicono, guardate, noi siamo spiriti incarnati in degli avatar, in un universo olografico, non è reale la realtà, la realtà è la parte più immaginaria e la realtà è la nostra anima, che in realtà riesce a toccare le corde di questa realtà modificandola con il pensiero. Questa cosa potrebbe essere dimostrata non tra molto, però è una cosa al mente lontana dalla vostra concezione, che non ci credete mai, nemmeno se ve lo dico io, e io non ho ancora le prove, quindi non sono di quelli che racconta Panzane, non ho le prove, diciamo, per ora sappiamo soltanto che ci sono degli esperimenti in merito. Questa scommetta è la prima volta che la sentite, io non ve l'ho ancora mai detta, ci sono dei generatori di numeri casuali, no? Che avete davanti e fanno apparire sullo schermo dei numeri, e ovviamente in maniera stocastica, casuale, un po' come nell'universo quantistico. Voi sapete, l'universo quantistico per l'osservatore è un ruolo predominante, allora si sono detti, ma se metto lì una persona che osserva questo generatore di numeri casuali, riesco a modificare, con la sua presenza e con la sua assenza, in un sistema quindi macroscopico, comunque il generatore di numeri casuali è qualcosa di macroscopico, cambiare un pochettino la percentuale di numeri che esce, fare l'esperimento prima e l'esperimento dopo, con la persona che guarda e si concentra. Se sono accorti, è l'esperimento pubblicato nell'89, ora non vi so dire di preciso quale, ho chiesto alcuni raffronti e sto approfondendo la questione, ecco, intanto ve lo annuncio, però pare proprio che ci sia questo esperimento e ce ne sono stati anche altri, ovviamente non ve lo vengano a dire a voi, altrimenti dicono allora quindi cosa significa che la realtà non è reale e noi siamo più reali della realtà perché siamo degli spiriti che probabilmente hanno quota parte con colui che ha progettato questa realtà, perché altra cosa importante è che l'universo non è casuale, a me non crediate nella teoria del multiverso, non è sostenibile l'idea dell'universo casuale, ma l'unico modo per sostenere l'universo è che sia un progetto, un sistema operativo, un software, qualcosa di progettato comunque, che ha protoni tutti uguali, elettroni tutti uguali, gli atomi sono fatti di quark, i quark sono pochi tipi, ci sono quei tipi lì e basta, quindi è un universo fatto di pezzi di Lego, non è un universo tutto casuale di pezzi a caso, variabili a caso, altrimenti non avremmo mai, non potremmo mai avere la vita, per esempio, perché la vita è ordine nel caos, e non si può creare l'ordine nel caos, perché andrebbe contro le leggi della termodinamica, tutto ciò avviene perché c'è un sistema di variabili, parametri, o di costanti universali, che sono stati tratto modificati nel tempo, probabilmente, perché non torna nulla nella teoria dell'inizio dell'universo, e sono stati fatti in modo che generassero quello che è apparso, cioè la vita, almeno sulla Terra, ma anche su altre parti dell'universo, sicuramente. Quindi, stiamo di fronte, stiamo di fronte a qualcosa di creato, ok? Non potete credere in Dio, non importa, non importa chi l'ha creato, l'importante è sapere che si tratta di un progetto, di qualcosa che è stato progettato, non ci interessa in questo momento da chi, ma è stato progettato, e forse noi sappiamo qualcosa, essendo la coscienza che è scesa qua dentro e che ne fa parte come avatar, come coscienza calata in un avatar, è come se avete un videogioco, sicuramente conoscete lo sviluppatore del videogioco che ve lo ha fatto provare, ve lo ha fatto acquistare, e voi state provando quel videogioco, quindi avete la possibilità di godervi questa esperienza che è la vita, e quindi, mi dispiace per il grande filosofo tedesco che ha creato tutti questi danni, e quindi, mi dispiace per Feuerbach, non aveva capito nulla, noi non siamo ciò che mangiamo, e la idea di Dio non ce la siamo inventata noi, ma semplicemente è l'universo, è questo che noi vediamo, tutto l'universo, che è una creazione, un software, che è stato creato da qualcuno, da qualche intelligenza superiore, e forse noi abbiamo potuto parte in quell'intelligenza, potremmo essere noi in piccolissima parte creature di quell'intelligenza, oppure potremmo essere parte della stessa grande intelligenza che andamenta che ha creato l'universo, non cambia nulla, io non vedo grandi differenze fra il panteismo, ad esempio, o altro tipo di idea, perché comunque c'è sempre qualcuno che ha creato qualcosa, capite? alla fine non è quello importante, l'importante è essere persone che hanno una moralità, quindi il cielo stellato sopra di me, ancora uno stellato, e la legge morale dentro di me, e questo non era Feuerbach, ma era Kant. Ecco, per una ironia della sorte, Kant, filosofo settecentesco, morto nel 1804, è morto l'anno in cui è nato, a quanto pare, Feuerbach, ed è così, incredibile, perché tutto torna, pensateci. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola l'eremita, è gratis, e attiva la campanellina per non perdere nessun video.